Ancora buonasera, dunque viaggio nella città, aggrigento e la periferia sud ovest verso il mare. Lavori Enel, bassa tensione, danni senza rimedio, discariche e degrado. Report del videogiornale, Carmelo Lazzaro. Ho avuto il problema di aver bruciato la spina e la presa della lavatrice. E inoltre anche il televisore che è da buttare. Allora, noi abbiamo avuto problemi sia a casa perché abito qua vicino, sia in ufficio. Principalmente in ufficio non possiamo lavorare perché abbiamo luce con intermittenza continua, i fax sono rotti, i due computer non funzionano più. Io non riesco a lavorare specialmente di pomeriggio dopo le due e mezzo, le 14.30 non si può lavorare. Quindi è dal mese di giugno che non lavoriamo tutti i pomeriggi. L'illuminazione funziona di intermittenza, computer, fax e altre apparecchiature elettriche vanno in tilt. Contano i danni i residenti del popoloso quartiere greggentino conosciuto col nome di Maddalusa, sulla statale 640 tra Greggento e Porto Empedocle. A provocare i guasti sostengono gli sbalzi della tensione dell'energia elettrica da parte dell'Enel per consentire all'ANAS i lavori di sostituzione delle travi, peraltro ancora attesi, della struttura portante del cavalcavia lungo la 640. Gli abitanti chiedono conto e ragione all'Enel, hanno raccolto le firme che hanno inviato alla procura e pensano ad una class action per ottenere il risarcimento. L'Enel conosce il problema perché è stata attenzionata sin da giugno, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. So che hanno effettuato anche delle rilevazioni che attestano appunto l'abbassamento enorme della tensione sino a 140 contro i 220 contrattuali, ma non c'è stato alcun cenno in risposta. E a Maddalusa da tempo gli abitanti rivendicano anche un intervento urgente per l'adeguamento degli svincoli sia in entrata che in uscita. Li ritengono non a norma del nuovo codice della strada. Le due bretelle che immettono nel quartiere da Porto Empedocle e per Porto Empedocle sono state realizzate con un'angolazione di 90 gradi. E perpendicolarmente rispetto alla carreggiata della 640. Questo non è consentito dal nuovo codice della strada. Pertanto le due bretelle di decelerazione e decelerazione devono essere realizzate in maniera legale. L'evidente pericolo di incidenti fa il paio con gli innumerevoli disservizi ed il rischio di infezioni e malattie. Questo è il panorama di assoluto degrado che si mostra ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive di Maddalusa. Una discarica di ethernet e rifiuti di vario genere depositati dagli immancabili incivili di passaggio. All'abbandono igienico-sanitario nel quartiere si aggiunge anche l'isolamento nei trasporti. Da oltre un anno niente più autobus urbani e c'è chi si rivolge al prefetto. Adesso da parte degli amministratori ci si viene a dire che vista una legge antinfortunistica questo pulmone quando arriva in zona si viene a fermare per così dove siamo adesso noi e poi per poter uscire dalla zona e andare poi verso Villa Seta gli tocca fare due metri a marcia all'indietro. Questo si rischia, dicono loro, di investire qualcuno di quelli che stanno scendendo. Allora io chiedo intanto che chi deve scendere, il pulmone, i due metri a marcia indietro li deve fare prima che le persone scendano, a chi va all'indietro in maniera che scendendo le persone è pronto a partire. E poi se dobbiamo fare discorsi seri io non capisco. Si lascia senza servizio una zona come Maddalusa che adesso con il periodo infernale abbiamo le scuole, i bambini devono andare a scuola perché un pulmone deve fare due metri a marcia indietro. Ma nessuno si accorge che nella stazione dei pulmani ad Agrigento in pieno centro dove la gente pullula non ci sono pulmani che fanno almeno 7, 8, 10 metri di marcia indietro. Pagliamo le tasse, pagliamo l'IRPEF, pagliamo l'ICI ma non ci sentiamo cittadini di Serie Z. Sarebbe opportuno che chi ci amministra, anche se siamo disamministrati, provvedesse ad attenzionare questa e le periferie di questa città. Noi viviamo nella sporcizia e passoluta. Io non capisco come si può venire domani a chiedere il consenso quando per 5 anni si è stati qua a guardare e a non risolvere problemi che sono banalissimi per altri contesti. Rimaniamo allibiti e chiediamo con forza che questi interventi, anche se la stagione è ormai andata, venissero effettuati ugualmente.